La bisca, prima parte. Negli anni 60 e 70 a Roma, come credo anche in altre città, esistevano le bische. Erano frequentate da gente poco raccomandabile e vi si praticava il gioco d'azzardo. Spesso i gestori, per ingannare la legge, davano ai loro locali dei nomi che erano bizzarre sigle di ispirazione culturale, tipo Cadaim, che voleva dire centro, affermazione, divulgazione, arte italiana nel mondo. Ma cultura de che? A me e ai miei amici veniva da ridere, perché bisognava avere la faccia come il culo per chiamare così un centro di riciclo di soldi sporchi, usura e traffico di gioielli rubati. Poi aprirono anche dei locali che pur mantenendo il nome equivoco di bische, erano in realtà destinati ai ragazzi, studenti come noi, ma anche malandrini e nulla facenti. Non ci si giocava a poker, ma a flipper e biliardino. Una volta che cominciavi a giocare a flipper eri fregato, perché ci saresti tornato spesso, drogato dai suoni, dalle luci colorate. Dalla sfida continua la tua prontezza di riflessi nel lanciare la biglia, stopparla e indirizzarla verso un obiettivo in grado di farti guadagnare punti. La vera goduria era poter battere il record che qualcuno aveva inciso sulla cornice del flipper. Non ci riuscivi mai, ma era già un successo anche solo avvicinarsi a quel numero composto da sei cifre alte. Frequentando parecchie di queste bische il pomeriggio prima di mettermi a studiare, avevo notato che i record di tutti i flipper del mio quartiere appartenevano a un certo Silvano Air Cilindro. Per me e per i miei amici questo Silvano era una sorta di leggenda misteriosa. Non l'avevamo mai visto, non sapevamo nulla di lui. Solo una volta il vecchio proprietario di una bisca ci disse, se vede poco, vede rado. Noi l'avremmo voluto vedere alla prova, avremmo voluto capire come poteva arrivare a quei punteggi mostruosi senza fare tilt. Doveva avere una tecnica che volevamo studiare. Roma, in quel periodo nei quartieri non lontano da Campo dei Fiori, pululava di ragazzotti che lavoravano per modo di dire. Sotto casa mia si radunavano all'ora di pranzo al bar di Via dei Pettinari. Uno faceva il portiere, un altro il carrozziere, un altro il garzone, un altro ancora, in giacca e cravatta, era un autista del vicino Ministero di Grazia e Giustizia. E c'era chi non faceva niente. Tutti all'epoca avevano uno scooter o una moto, sempre truccati. Vespe e lambrette con la doppia marmitta, Morini, Gilera o Aermacchi con la testata abbassata. Era molto divertente ascoltare i loro discorsi perché gli argomenti erano sempre soltanto due, fica e motori. Ognuna aveva un'avventura da raccontare e che fosse vera o inventata non importava. Facevano ridere per il loro vocabolario e per i gesti con cui accompagnavano e precisavano i dettagli. Era un gran teatro all'aperto dal quale inconsciamente assorbivo quello che un giorno avrei rappresentato a modo mio. Gran parte di ciò che ha fatto ridere il pubblico lo devo a questi eroi del cazzeggio, a questi campioni della mitomania.